L'estate è finita, la pioggia è arrivata e le spiagge sono tutte vuote. È rimasta un'ultima spiaggia, quella di cui si parla per l'allenatore Baroni. In tanti hanno dipinto così la prossima gara dei biancoazzurri. Che si chiami Entella o Catania, poco importa, perché solo i tre punti potranno rafforzare la panchina del tecnico di Firenze. Poco importa se giocherà Maniero e non Melchiorri. Poco importa se dal 4-3-3 si passerà al 4-2-3-1. Poco importa se un palo al 96esimo dovesse buttare fuori la palla della vittoria. Baroni che conosce il calcio dai tempi dello Scudetto, vinto con il Napoli di Maradona, sa bene come funziona. Però farebbe meglio non fidarsi delle promesse, dei mezzi sorrisi e dovrebbe anche limitarsi a non tutelare qualche giocatore che ha condizionato il suo lavoro. È vero che i risultati non si rubano ma si conquistano con un'idea di gioco. Ma nei momenti di necessità sarebbe più opportuno agire nella maniera più concreta. Da Lanciano a Pescara il passo è stato breve e veloce. Da una piazza meno esigente ad un palcoscenico più ambizioso le differenze sono tante, ma a Pescara il pubblico è stato sempre al suo fianco. Negli ultimi anni le critiche hanno coinvolto i vari Stroppa, Bergodi, Marino e Cosmi. Ma su Baroni c'è piena fiducia perché dopo due anni qualche barlume di bel gioco si è visto ed il pubblico ha apprezzato. Manca ancora tanto, ma se si è vivi bisogna dimostrarlo nei momenti di difficoltà. Lui ha fatto da scudo la sua squadra e ora tocca proprio alla sua squadra conquistare quella vittoria che permetterà di non arrivare all'ultima spiaggia. Anche perché l'estate è finita e le spiagge sono tutte vuote.